Allora, buongiorno, dovremmo essere in onda, chiedo scusa ma siamo un po' alla cieca, nel senso che siamo senza video e segnale video qui in studio, quindi con tanti monitor ma siamo un po' senza vedere quello che in realtà sta succedendo, ma credo che comunque siamo in onda, chiedo poi comunque la conferma alla regia. E allora iniziamo, non so se riuscite a mandarmi anche il cartello, forse quello riusciamo a vederlo, il cartello con il santo e il giorno, vediamo se riusciamo, no non riesco a vederlo, va bene lo stesso. Allora andiamo avanti, lo vedete voi da casa probabilmente, mentre vi faccio vedere le previsioni per la giornata odierna, che sono previsioni importanti perché, come immagino starete guardando adesso sul vostro televisore, c'è la grafica della protezione civile delle marche che per oggi, vedete questa grafica animata, prevede dalla tarda mattinata rovescio temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, nelle zone collinarie e costiere, in estensione anche alla fascia basso collinare e costiere in particolare del settore centro meridionale. Quindi come vedete la giornata di oggi dalla tarda mattinata, addirittura la protezione civile ha emesso un allerta meteo di colore giallo, soprattutto per i temporali, non tanto per la situazione idrogeologica, però insomma ecco, questa è l'evoluzione del tempo nelle prossime ore, da metà, dalla tarda mattinata poi a seguire durante il giorno. Poi domani cambia tutto, vedete torna il bel tempo con temperature però in diminuzione da notte, quindi si dormirà forse un po' di più, un po' meglio, anzi senza un po' di più, un po' meglio, non è questione di durata ma è questione di qualità, senza variazione di rilievo invece le temperature massime, andiamo a vedere venerdì, venerdì ancora tempo buono, instabilità invece anche per la giornata di sabato. Allora adesso invece andiamo a vedere i giornali, i giornali, ecco adesso riesco a vedermi anche qua in studio, bene, ecco, un piccolo passo per l'umanità. Allora, crisi idrica, il Burano in soccorso, questo è il titolo d'apertura del Corriere Adriatico di oggi, aperto in anticipo il Pozzo, per ora saranno prelevati 200 litri al secondo, il prossimo step sono i 300, quindi 300 litri. Nel Pesarese la situazione più critica, impennata di consumi di energia, ieri blackout nella zona del Porto. A centro pagina invece la fotonotizia che riguarda la candidatura alle politiche di Matteo Ricci. Allora qui abbiamo due versioni e quindi a questo punto occorre fare una media o, se non altro, aspettare anche qui la giornata odierna per avere un quadro più definitivo. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che per il Corriere Adriatico Matteo Ricci avrebbe già detto no alla candidatura, alle politiche, ma invece è più possibilista il resto del cardino, infatti come vedremo tra poco, sarà oggi la giornata in cui Ricci prenderà la sua decisione definitiva e quindi accenderà la candidatura o meno. Ricci rinuncia alla storia, si ripete, questo è il titolo. Poi fuga dai medici e riparti sempre più in sofferenza, questo a Pesaro, mentre fanno acciuffati i vandali della Darsena, sono due ragazzini, Marche Spighe Verdi 2022, un riconoscimento per nove comuni. Schianto, e qui c'è la cronaca, Schianto tornando a casa, trovata morta 14 ore dopo, Erika Mammarella, 35 anni, viveva a Tavuglia, faceva la barista, il PM ha chiesto l'autopsia. Il titolo d'apertura invece, anzi la fotonotizia del cardino di Pesaro, è per questa tragedia della strada, la tragedia di una cameriera a 35 anni di Tavuglia, il corpo ritrovato 14 ore dopo, muore mentre torna dal lavoro, e questa è la fotografia in basso a destra, vedete di Erika Mammarella, 35 anni. Si cita, ecco la flebo del Burano, la regione apre il pozzo che rilascia 200 litri al secondo, sul Catria invece animali soccorsi con le autocisterne, poi ore decisive invece, come dicevamo, vedete per Matteo Ricci, riunione con Letta al Nazareno, poi dirà se si candida oppure no. Il sindaco di Pesaro si incontra a Roma con i colleghi DEM. Ancora dalla prima pagina del resto del Carlino, l'appello del primario Barchiesi, reparto di nuovo pieno per Covid, mascherine anche al chiuso. Ora io ve lo segnalo soltanto in apertura, come titolo d'apertura, perché ovviamente è qui, c'è questo richiamo sulla prima pagina, poi però vai a leggere l'articolo e ti rendi conto che tutta questa paura esagerata, come sempre, viene sborzata dai fatti. Certamente le persone finiscono in ospedale come è sempre esistito e soprattutto quelli che hanno delle malattie pregresse, con l'influenza, se curata male finiscono, eccetera, eccetera. Ma in questo caso, ripeto, se andate a leggere a pagina 9 l'articolo del resto del Carlino, vi renderete conto che insomma il titolo non corrisponde esattamente alla realtà dei fatti. Mercato, VL e VIS, ci sono Delia e Sabotic, poi tutti 10 anche con l'ode premiati, 120 bravissimi, è tempo di bilanci anche a scuola, soprattutto di voti. E allora, insomma, adesso in prefettura c'è questa cerimonia per i ragazzi delle scuole mediche che sono stati bravissimi e quindi vengono premiati. Adesso la cronaca, allora ripartiamo da qui, partiamo da questo fuoristrada con l'auto mentre torna dal lavoro una giovane camariere trovata morta 14 ore dopo, Erika Mammarella, 35 anni, ritrovata, rientrava, scusate, dopo il lavoro, dal turno a bordo della sua Fiat Punto, lo schianto tra San Giovanni Marignano e Tavuglia. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 del mattino, ma la macchina è stata vista solo nel tardo pomeriggio seguente. Per alcuni anni aveva fatto parte della sezione di Pesaro del Corpo Nazionale Giovani Esploratrici. Allora, la politica invece, a pagina 2 del Corriere, tutto confermato, i sindaci si tengono la vecchia poltrona, ecco questo è il titolo, ad Ancona Valeria Mancinelli ha ufficializzato la rinuncia alla corsa per il Parlamento, il collega di Pesaro Matteo Ricci si avvia a fare lo stesso, il Nazareno ha definito il regolamento per le candidature alle politiche e gli inquilini di Palazzo Leopardi, quindi la Regione, dovranno passare al vaglio di Letta. Eccoli qua allora, vediamo il borsino dei Democrat. Abbiamo detto che Valeria Mancinelli, che è sindaco di Ancona, non si candida, così come Matteo Ricci, i consiglieri regionali, guardiamo un attimo, Antonio Mastrovincenzo si candida, Romano Carancini si candida, Anna Casini, probabile candidatura, Maurizio Mangelardi, ex sindaco di Senigallia e candidato anche alla presidenza alle regionali, ma poi perdente contro l'attuale governatore, anche lui probabilmente si candida, poi Andrea Biancani ancora in forse, poi Manuela Bora, Fabrizio Cesetti e Michaela Vitri non si candidano. I parlamentari uscenti invece, vedete da soli, Alessia Morani si candida, Francesco Verducci, probabile candidatura, Mario Morgoni invece ha detto che non si candida. E a Palazzo Raffaello, in Regione ovviamente, il governatore Acquaroli ha una bella gatta da pelare, perché tre assessori se ne vanno probabilmente e si candidano, visto insomma il vento a favore. Acquaroli si rassegna, lascia candidare i suoi, se ne può discutere, con almeno tre assessori sulla via di Roma servirà un rimpasto. Ecco qua il titolo sul Corriere, intanto Forza Italia valuta di paracadutare Francesco Battistoni, centrodestra avanti negli uninominali, nei collegi uninominali che favoriscono le coalizioni, dal momento che viene schierato sul campo di battaglia un nome secco. Insomma, si preannuncia una partita in salita per il centrosinistra, che parte sfavorito quasi dappertutto, non potendo contare ancora su un'alleanza certa e ben definita, mentre il centrodestra, soprattutto nel sud della Regione, sembra avere il vento in poppa. Mentre per i 5 Stelle, a Coto e Fede verso i collegi blindati al proporzionale, il movimento punta su di loro, ufficiale il ritiro di Agostinelli. Insomma, tutti attaccati a questa benedetta poltrona, volti nuovi per ora non se ne vedono, tutti a pregare e accendere ceri per trovare un posticino buono che gli dia la possibilità di restare a Roma per altri 4, 5, 6 anni, il tempo che durerà il nuovo governo. Ma insomma, questo è. Ricci la storia si ripete, invece siamo di nuovo sul Corriere Adriatico. Pag. 9, come vedete, il Corriere è sicuro, invece che Matteo Ricci ha già deciso e quindi non si candiderà. La storia si ripete dieci anni dopo, il no da Presidente e oggi da Sindaco, perché all'epoca era Presidente della provincia, oggi invece Sindaco. Candidatura, il primo cittadino incontra Letta, poi la dichiarazione ufficiale, gli scenari del suo futuro. Ecco, quindi il Corriere sa che Ricci incontrerà comunque Letta al Nazareno, come ha scritto anche il resto del Cardino, però il Corriere va sul sicuro e dice, già sa la risposta praticamente di Matteo Ricci. Ci vedremo chi tra i due giornali ha ragione, tracce della sua decisione su Facebook, saluta l'Ulise Fest, ci vediamo nel 2023. Ma poi c'è anche il discorso della Pesaro, capitale della cultura, nel 2024. Insomma, voglio dire, mi pare che lasciare adesso sarebbe, a mio avviso, un po' azzardato. Ricci, le ore decisive per la candidatura, riunione al Nazareno con Letta, poi decide. Il Sindaco di Pesaro ancora non ha escluso la possibilità di correre per le politiche del 25 settembre, oggi però romperà gli indugi. Mentre la Mancinelli, Sindaco di Ancona, dice, no, il mio impegno è qui, non mi candido alle elezioni, dice la Mancinelli, nonostante le tante richieste a noi sindaci, per farlo dovrei immediatamente dimettermi da sindaco. E questo comporterebbe, ha detto la Mancinelli, lo scioglimento anticipato della Giunta, del Consiglio Comunale. Insomma, per senso di responsabilità, visto come stiamo messi, davvero ha preferito usare il buon senso e restare lì, sacrificando anche un po' la sua, come dire, ascesa, carriera politica. Il Metauro è in secca, il Pozzo del Burano di nuovo in soccorso. Questa è la pagina invece 6 del Corriere Adriatico di stamattina. Questi sono problemi che davvero cominciano a essere pesanti, perché nel Pesarese gli invasi sono al 20% della loro potenzialità. È stato aperto il Pozzo del Burano per una portata di 200 litri al secondo, quindi a soccorso degli acquedotti di Fano e Pesaro. La scorsa settimana è stato attivato anche il Pozzo di Sant'Anna con altri 150 litri al secondo, ridotto di 200 litri al secondo e rilascio dell'acqua dagli invasi per soccorrere. Il Fiume Metauro. Quindi, questo per dire, insomma, attenzione e speriamo soprattutto, attenzione a non sprecarla, va bene, ma poi ecco l'importante è che il Padre Terro ci mandi la pioggia, ma su questo bisognerà vedere. Fiume in crisi, siccità spietata, arriva la Flebbo del Burano, ha aperto il Pozzo, un anno fa si avviò il 7 di agosto, quindi siamo in anticipo nel 2017, il 17 luglio. Aguzzi dice, cerchiamo di ridurre al minimo lo sfruttamento di questo serbatoio naturale, anche perché non sappiamo, effettivamente non ci sono studi precisi, qualcosa è stato fatto, ma nessuno può dire quanto effettivamente contiene, quanta acqua può erogare il Pozzo del Burano. Quindi immaginatevi un giorno quando, se dovesse, ma speriamo di no, arrivare all'ultima goccia. Venerdì pomeriggio a Cagli un confronto sulle risorse idriche organizzato dall'Unione Montana. Prime preoccupazioni anche per i tartufi, nessun problema per quello nero, ma il bianco, e qui c'è un punto interrogativo, parla il cercatore Andrea Paleani, servirebbero un paio di belle piovute prima di ferragosto. Per i funghi il discorso è analogo, ma diciamo meno rigido. E poi c'è il problema delle mucche, guardate questa è la pagina 25 del Carlino di oggi, le mucche sono assetate, il sindaco di Frontone è pronto a chiedere allo stato d'emergenza, e praticamente il problema è qui molto grave. Sui pascoli del Monte Catria i conti sono presto fatti, ci sono in Alpeggio 400 capi di bestiame che in queste giornate calde bevono 80-90 litri d'acqua ciascuna, e l'acqua scarseggia, ridotta ad un rigagnolo che non basta a colmare le loro esigenze. Se la situazione non cambia saremo costretti a chiedere allo stato di calamità, dice il sindaco di Frontone Daniele Tagnani, la situazione è davvero insostenibile, e mai come quest'anno la siccità ha colpito il comprensorio del Catria. Solitamente negli scorsi anni questa situazione si presentava verso la fine di agosto, e con un po' di organizzazioni, e qualche cisterna d'acqua si riusciva comunque a sopperire al fabbisogno degli animali. Quest'anno invece siamo già in questo stato da qualche giorno, e pensare di affrontare poi tutto il mese di agosto, o addirittura un mese e mezzo, quindi fino alla metà di settembre, con carichi d'acqua e rifornimenti è difficile immaginarlo. Intanto, sempre su questa pagina, gli scout abbandonano i campeggi, che ora sono a secco, grossi guai per tutte le strutture ricettive, manca l'acqua sui monti dell'entroterra, e le ripercussioni non sono soltanto per gli animali al pascolo, ma anche per il turismo. E infatti già si ha notizia di primi gruppi scout che per i tradizionali campi estivi hanno dovuto togliere le tende e tornarsene a casa, perché l'acqua era irreperibile dalle fonti su cui avevano contatto per gli apprevisionamenti. E l'ultimo caso è quello degli scout di Bocca della Valle sul Monte Catria. Insomma, questa è un po' la situazione, crisi che parte dal monte, come sempre, poi scende giù fino ad arrivare in collina, a valle, e poi anche qui da noi, sulla costa, ma speriamo di no. Presi bene i vandali della Darsana borghese, avevano rubato anche delle attrezzature, siamo sulla pagina di Fano del Corriere, recuperato dai carabinieri il materiale è sparito, e due hanno 16-18 anni, danni e bottino da 5.000 euro. Il rilancio invece dello Zengarini costerà almeno 4 milioni di euro, Seri e Brunori aggiungono, 2 milioni e mezzo li mette il Comune con i fondi del PNRR. Ora, la pagina invece di Fano del resto del Calino, Tonelli, l'assessore dice così cambierà la viabilità della città, ciclabile, sicurezza, il 20% dei fanesi si muove in bicicletta, le opere delle vie negusanti da via, negusanti, a 4 novembre, vanno in questa direzione. Abbiamo creato un asse che collega Flaminia, Sant'Orso, Centro e Mare. Poi, una guida turistica racconta i nostri tesori tra storia e futuro, i percorsi da seguire e gli eventi da assaporare, uno strumento che enfatizza e dà valore al nostro brand. Stiamo parlando di un volume di 96 pagine, edito da Bonecchi, Bonecchi è la casa editrice italiana specializzata in guide turistiche e libri d'arte, che racconta la bellezza della nostra città tra storia e futuro. E se non ricordo male, non ho letto male da qualche parte, addirittura fanno paragonata a Firenze, cioè una piccola Firenze. Ilari dice, se è rifavorevole alla fusione Aset-Marche Multiservizi, l'intervista del sindaco Alcarlino scatena le reazioni, Ilari dice, ha gettato la maschera, ai 5 Stelle non vogliamo di nuovo rievocare i programmi elettorali. Confermati 2 milioni e mezzo per la riqualificazione della pista Zengarini, dal PNRR, appunto, e poi la Lega, la Lega Fanese, che ha scelto il suo segretario Brandoni, Alessandro Brandoni, appunto, il nuovo segretario della Lega. Andiamo adesso invece sulla pagina 20, c'è la cronaca, Carazzie in Darsena, due giovani neguai, sono ragazzi del posto, ad aiutare i carabinieri, le immagini delle telecamere, danni per circa 5 mila euro. Poi c'è la notizia qui di spalla di sei velisti e un cane, portati in salvo, domenica mattina, a largo della spiaggia dei Fiori, siamo sempre nella zona del Fanese, dalla Guardia Costiera, e il prezioso aiuto dei volontari dell'Associazione di Pronto Soccorso Cinofilo in mare che si chiama K9. E tutto è successo intorno alle 11.30 del mattino. Poi Circolo Metauro Tricolore, nominato il direttivo, ci attendono sfide, recuperare le macerie lasciate in regione. Adesso andiamo invece sulla pagina della Val Metauro, pagina 17, intanto una breve qui in alto, di fianco alla testata, Cordoglio a Fossombrone per la prematura scomparsa di Gabriele Montoni, già responsabile del settore lavori pubblici. Titolo d'apertura invece per i volontari con le autobotti per dissetare le zone isolate. Monitorato per il rischio di incendi, il vasco bosco demagnale delle Cesane. Sotto invece per una risonanza urgente, mesi di attesa, ma a pagamento si fa dopo 24 ore, quindi niente di nuovo sotto il sole, Foscamari dice nessun posto in regione. Mentre, tornando, restando in tema di sanità, dalla pagina di Pesaro e Provincia del Corriere Adriatico, sanitari in fuga e malati da gestire. I reparti sempre più in sofferenza. Operatrice aggredita da un degente all'ospedale, la CGL solleva il nodo di psichiatria e Biancani chiede conto delle carenze. Dunque, si parla anche della riorganizzazione della sanità pesarese, ma anche di fatti, episodi, che riguardano la cronaca, perché nella notte, tra lunedì e martedì, un uomo è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore per via di uno scompenso psicofisico, ma alla vista di medici e personale, ha reagito bruscamente, aggredendoli e colpendolo, colpendo al collo una osse, che ha subito un piccolo trauma. Niente di grave, ma l'operatrice sanitaria, comunque, è dovuta ricorrere ad accertamente. Ancora cronaca, ruba l'iper dei pantaloncini per rivenderli e poi acquistare la droga. E sotto, invece, qui la foto di Joe Blair, di cui abbiamo parlato anche ieri, l'ex cestista della VL, quindi squadra di canestro pesarese, del quale abbiamo parlato ieri, per quale motivo? Perché ha pubblicato su Facebook una sua dichiarazione, che poi è stata strumentalizzata, strumentalizzata, come al solito. Insomma, sono cose di cui siamo abituati, perché anche i giornali, non sapendo mai sempre come sbarcare il lunario, spesso vanno a cercare, si inventano cose che poi, come si dice, creano tanto rumore per nulla. E anche il sindacato di polizia la vede così. Il caso Blair è stato creato dal nulla. Anche il sindacato di polizia interviene per chiudere l'episodio. Allora, andiamo adesso sulla pagina di Fano, invece, comunicazione e marketing l'Ateneo Guardavanti, presentata la nuova offerta formativa legata anche alle esigenze del territorio. Il prorettore Fabio Musso dice il cambiamento importante da questo corso di lauree. Poi, giornalisti alla scoperta delle bellezze del territorio, gli inviati di diverse testate insieme a Digidio Cecchini, poi Stefano Bracchetti, Roberto Cioppi e Giuseppe Magnanelli, insomma, alle prese con questo tour. Un viaggio dedicato alla stampa nelle terre del Duca Federico tra Urbino e Cagli. Poi sotto, studenti premiati per i progetti, un'iniziativa di Confindustria. Andiamo adesso, invece, nella pagina di Senigallia. Ancora la cronaca in primo piano. Pugno duro contro la mala movida. D'aspo alla rapinatore del Mamma Mia, locali vietati al ventenne che ha aggredito due ragazzi. La questura dice stessa punizione per tutti i violenti. E poi abbiamo una bicicletta, un altro articolo che riguarda una bicicletta rubata che è stata ritrovata e un 19enne che è stato denunciato. Si blocca, invece, per il troppo caldo la centralina della Tim. Qui siamo a Barbara, in provincia di Ancona. E quindi, insomma, potete immaginare quando si blocca internet, praticamente si blocca metà della nostra vita. Il cascone, invece, è già partito il pellegrinaggio. Tra sacco e profano usiamo termini per divinizzare un casco. L'omaggio a Valentino il giorno dopo l'inaugurazione. Diventa subito meta di tanti tifosi. L'entusiasmo del direttore di A. Pautella potevano farlo un po' più piccolo, anche se Rossi resta sempre nei cuori. Qualcuno non gli sta bene la grandezza e quindi ha dovuto criticare anche l'altezza di questo casco che effettivamente è molto grande. Poi bisogna essere lì sul posto per vedere effettivamente se è impattante. Ma, insomma, va bene così. Allora, noi ci fermiamo. È tutto per quanto riguarda la segna stampa. Allora, sono le 7.26, credo di sì, 7.26 per chi ci segue in diretta. Buongiorno, naturalmente, anche a chi segue la replica della nostra segna stampa. e così come gli altri appuntamenti degli informativi, compreso il telegiornale, delle 20 e 30. Quindi vi ricordo che ci sono tanti modi per rivedere, non solo in diretta, ma anche on demand, come si dice, quindi con le repliche in televisione, ma anche grazie alle nostre pagine social. Occhio alla notizia e occhio ai giornali. Lo potrete anche vedere su YouTube, così come sulle pagine Facebook. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito e a voi tutti l'augurio di una buona giornata.